Non sorridermi così. Perché no? Perché non so che significa. Da dove hai preso i tuoi gusti esotici? Che cosa vorresti dire? Non possono venire da qui. Perché no? Perché questo è un posto dove le persone vengono quando sono stufe di vivere. Qui pensano che il massimo dell'eccitazione possa essere un nuovo cartello con scritto silenzio in biblioteca. Dovresti mordere la vita, conquistare il mondo e mostrare le tue scarpe da folletto a qualche marpione. A me piace la mia vita. A te piace tutto. Sono felice qui. Beh, non va bene. Ero entrata a Manchester. Che cosa dovevi studiare? Moda. E perché non ci sei andata? Sai cosa vedo quando ti guardo? Non dire potenziale. Potenziale. Devi allargare i tuoi orizzonti, Clark. Si vive una volta sola. Anzi, è tuo dovere sfruttare la vita al massimo.